nooo ciao a tutti ragazzi siamo Rebby e Mollini e la ruota magica si la ruota dei colori super super colorati come state ragazzi speriamo tutto bene d'ora in poi vogliamo chiamarvi Rebby Mollini vi piace? Rebby Mollini diteci se vi piace e consigliateci se non vi piace altri nomi qui sotto nei commenti forse ragazzi diventeremo il team Rebby Mollini e scortizzeremo il mondo allora che cosa facciamo oggi con questa ruota Rebby? allora oggi questa ruota sceglierà il nostro destino cioè il colore che verrà noi lo sceglieremo e dovremmo mangiare tutte le cose di quel colore esatto quindi speriamo che venga un colore bello tipo non lo so il rosso così possiamo mangiare tante cose rosse tipo il pomodoro ahhhh ahhhh Molli si è fatto male un dito mentre girava la ruota mi devo andare a mettere un cerotto che mi esce il sangue nooo povero Molli mi hanno fatto la bua nooo nooo dai che adesso passa tutto perchè mangerai delle cose di colore orribile ooooo viola ma cosa c'è da mangiare di viola ragazzi cosa c'è di viola è diventato passo ok adesso andiamo a fare la spesa e compreremo tutte le cose viola ma chissà cosa c'è da mangiare di viola fammi pensare allora la nutella la pizza basta dire sempre la nutella è marrone e qui non c'è neanche il marrone infatti dovremmo aggiungerci il marrone voi cosa ne pensate oggi non ci siamo color rosa si comandevi la chiarola ragazzi iscriveteci commentino anche per il prossimo video magari se dobbiamo mangiare il colore che ne so verde marrone esatto diteci un colore che vi piace e se non siete iscritti iscrivetevi andiamo con la spesa noi ti vediamo dopo ciao eccoci mi ritorna dalla nostra scatola viola ehi ragazzi come stai facendo ehi scatola no ma che puzza no scatola allora siamo andati a fare la spesa e abbiamo trovato robe di disgusto ehi allora quindi della nostra scatola misteri vediamo un po' oh oh mio che puzza ragazzi oh mio dio che schifo oh ma quante cose non c'è ancora una cosa allora ci siamo con la roba più disgustosa dell'umanità nooo cervello di alieno questa è lattuga no quello è cavolo che cavolo che cavolo dobbiamo mangiare basta io lo mangio noo nooo ahahahahahah ma che schifo pוט coppi gustiva aspetta prego wrapping guardate che morso si ma guardate il morso di molli sembra davvero che l'abbia mangiato una liro con sto cavolo Vai, vai, tra due euro Ma fa schifo Tra due euro, tra due, tra due Eeeeeeeh Oh, ma che cacau Oh, ma che cacau Devi mangiarlo Fa schifo, non si riesce a mangiare Che pussa È orrendo, diamogli un altro morso Eeeeeh Basta, basta, cavolo, basta Che schifo Che schifo Allora, ce n'è un altro c'è un altro vediamo qualcosa di più siano qualcosa di più è marmellata violacea sole di frutti melagrana non c'era niente di viola prendo il cucchiaio è un po' dolciastra proviamo vediamo questo è viola chiarissimo è viola chiaro sentiamo Dracula se ci senti è buono sentiamo è rosso quasi forse è un po' più rosso un po' molto dolce sembrava un po' violetto è troppo dolce tieni non lo voglio più buttiamo il cucchiaino si caramelle viola caramelle viola caramelle 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 mangio le caramelle caramelle sono buone guardate guardate le caramelle viola guardate sono proprio viola quanto è? al mirtillo ma che mirtillo? questo è un lampone mora quanto è mora? abbiamo topato molto buona molto buona amore viola oh mio dio che robazza vuoi che c'altro? oh no vuoi dare un'altra morza a questa? no una cipolla una cipolla viola oh guarda voglio che le mie unghie sono viola e le mangio allora come le ho? no no allora bisogna mangiarla si è un po' molto la laviamo prima mamma mia si rimarrà un alito schifoso questa notte non si dormirà vicino a molly ecco ragazzi vado eh che schifo aiuto ma questa cipolla hai tre due uno oh che schifo che schifo tieni a sprodola che schifo ha sprodolato sotto picca picca questa cosa ma non è mica peperozio fa sentire fa sentire ma picca un fatto ma che odore che schifo c'è un odore bruttissimo ti stai brodolando la cipolla a me piace ma così cruda è un po' che schifo sapremo di cipolla adesso abbiamo l'uva questa è buona dai questa è buona uva ecco esprime un desiderio proviamo a prenderla vai prova a prenderla vai 3 2 1 vai provo anche io no niente niente uva la devo lavare adesso è caduta buona buona l'uva buona l'uva mettiamo vuoi un altro po' di cipolla testa di cervello di alieno per ultimo ultimo vai i mirtilli i mirtilli dai mirtilli sono buoni se non sono troppo aspri mirtilli mirtilli qualcuno vuole un mirtillo vuole un mirtillo guardate come sono troppo rossi sono zigatti questi mirtilli guarda Rebby questo mirtillo è grandissimo guarda come il mio nasino molto molto buono un po' aspro bene ma questo video molto schifoso abbiamo finito scrivete un commentino su che prossimi cibi colorati mangiare esatto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao